Eccoli qua, eccoli qua, è già iniziata la volata, le maglie me le abbiamo raccontate, vediamo chi riesce a prevalere, ci sembra Bostola, ci sembra Bostola, 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 è libero, Bostola, in quel bagazzino è la proposta di Toglia Sardegna per il corridore della Q36.5, Minco Bostola, sta arrivando Zurro, eccolo qua, è Zurro, è quarto, 13 secondi, oggi è Bostola, per cercare di rispondere alla riposta di Toglia Sardegna, un percone, un percone, un percone, un percone, un percone, un percone, un percone.